Ciao a tutti, siamo qui sulla via di Burtina di fronte al Dubai Cafè e state vedendo la preparazione per l'apertura sabato 6 aprile alle ore 17 con un nuovo Honda Palace, vedete qui ci troviamo nella zona est di Roma sulla via di Burtina, ci saranno due piloti Jonathan Rea e Leon Aslam della Honda e in questo grande evento, questo showroom enorme a 2-3 livelli dedicato esclusivamente alla Honda, ci sono delle moto di ogni tipo moto da enduro, da strada, scooter, è veramente altamente tecnologico anche la struttura in via di preparazione e dopo il Dubai Palace, proprio a pochi metri abbiamo qui sulla via di Burtina, ripeto, l'Honda Palace si tratta quindi di un nuovo gioiello in questa zona industriale della capitale a est, dove è un altro gioiello che si aggiunge quindi grande evento, ripeto, lo inquadriamo Honda Palace, Roma, via di Burtina 1166, sabato 6 aprile ore 17 inaugurazione con due piloti ufficiali della Honda lo showroom più grande d'Italia ciao a tutti, alla prossima video ciao a tutti